Nella probabilmente dimenticata da tutti, me compreso, puntata precedente, eravamo rimasti ad Aios che voleva togliere di mezzo Goku perché lui con una mega onda era riuscito a distruggere lo spazio-tempo congelato, rivelandosi una gran spina nel sedere della Kaioshin. Ma il problema però non è tanto lei quanto un certo Majin Demigra che si è impossessato di una obrobriosa scatoletta appartenente ad Aios grazie alla quale può controllare lo spazio-tempo, o così sembrerebbe. Adesso lui può richiamare tutti i malvagi di tutti gli spazi-tempi possibili e immaginabili per far casino e sterminare tutti i mortali. Il suo scopo è infatti creare un mondo fatto di caos dominato da demoni pazzi e arrabbiati. Sì, praticamente la stessa identica cosa della cultura woke. In effetti lui assomiglia un po' a uno di loro. E il primo ad essere ripescato e riproposto e evocato è il drago finale di Dragon Ball GT, Yixin Long, che però ha subito un leggerissimo restyling a base di blackwashing. A contrastarlo arriva il Gogetta Super Saiyan di quarto livello dell'universo GT, cervelloni mazzanti vien dal mare, che si dà il turpiloquio e riesce a pestare il dragone senza fatica. La sua Big Bang Kamehameha è infatti talmente potente e imponente da inglobare qualsiasi colpo di energia sparato dal drago e spazzarlo nella profondità dell'universo dove finisce esplodendo in un lampo di luce. Non contento allora, il re oscuro demigra, inizia a ristrutturare tutti gli ambienti e a richiamare altri esseri malvagi un po' da tutti gli universi. Spin-off, film, speciali, un ripescone totale di tutti i cattivoni. Ovviamente rimpinguati ben benino di energia oscura per renderli molto più forti. Rosso Malpelo ci dà inoltre un assaggio dei suoi poteri, fra i quali la facoltà di risucchiare i colpi energetici avversari e rispedirli al mittente, ovviamente potenziati. Aios allora cerca di frizzarlo, ma lui si libera senza problemi, perciò naturalmente avremo una sequela di combattimenti in un caotico tutti contro tutti. Gogeta GT di quarto livello contro Broly di quarto livello, Yamcha che si troverà a dover collaborare con la sua nuova fidanzata per contrastare il nanerottolo cornuto Child, Gohan e Trunks contro gli altri, Goku Super Saiyan Blue contro Demigra, dal quale le busca come se fosse un esordiente totale che ha cominciato ieri e dovrà essere salvato dall'arrivo tempestivo di Vegeta, eccetera. Tutta roba così. Infatti più che un riassunto ironico, questo diventerà una sorta di telecronaca sui combattimenti. Sono tutte urla e botte, botte e urla. Che cacchio di battute vuoi fare? Fa schifo sta saga, fa schifo anche il riassunto, ma comunque andava fatto per portare il tutto a termine. Yes. Fusi con i Potara in vegetto, Goku e Vegeta rimettono in riga il cattivo e a Demigra gli va magra. Ma a causa del grandissimo dispendio di energia utilizzato per colpire il demone, subito dopo i due si separano e gli orecchini si sbriciolano. Saranno cazzi ameri! Il demone così può tornare alla carica più ammaccato, più spettinato, ma anche più incazzato di prima e subisce un'ulteriore mutazione grazie alla scatoletta. Ma scusa, ma non serviva a controllare lo spazio-tempo? Cosa c'entrano le trasformazioni? Ah, non lo so io! Così conciato, Demigra crea una megasfera di energia distruttiva con la quale spazzare via tutto e tutti, perfino i suoi sottoposti e Goku allora cerca di contrastarlo con una semplicissima Kamehameha. Deve essere un demente! Arriva però suo figlio Gohan del futuro alternativo a dargli una mano, l'unica che ha, giusto appunto il poveraccio e monco di un braccio e infatti ovviamente nemmeno questo basta. Demigra è troppo potente, ma all'improvviso ciccia fuori dal nulla un Bardak Super Saiyan di terzo livello che si aggiunge alla resistenza e così padre, figlio e spirito santo eh, cioè volevo dire padre, figlio e nipote si ritrovano uniti in una tripla onda energetica e giusto per essere sicuri Goku scatena l'ultraistinto Gohan del futuro alternativo attinge a... boh, il potere della moncaggine e Bardak diventa addirittura Super Saiyan di quarto livello le loro onde quindi si uniscono in una super mega onda che investe Demigra e finalmente dopo un quarto d'ora abbondante di grida lo disintegra. La scatoletta, che sarebbe la pergamena del tempo anche se è palesemente una scatoletta viene recuperata la sorellanza ripristinata le cose tornano come prima e ogni nemico è stato ricacciato nella sua dimensione Goku allora, che evidentemente non ne ha prese abbastanza chiede ad Ayo su un favore di organizzare un grande torneo dello spazio-tempo al quale potranno partecipare soltanto tutti i guerrieri che lo desiderano poi vediamo l'amichevole scontro finale del tutto a caso con il Goku Super Saiyan di quarto livello e il Goku ultra istintivo scontro vinto da quest'ultimo e Yamcha se l'è scampata bella con la promessa di matrimonio perché tanto dovrà aspettare altri 1200 anni e la saga dello spazio-tempo finisce qua con l'episodio 50 ma ho visto che ne hanno pubblicati altri e sembra essere tutt'altra roba una nuova saga che sicuramente sarà una mezza sega fine! Detto questo mando un caro saluto a tutti i miei patrons e noi ci vediamo alla prossima ciao!